Attenzione, la Lazio, maglia numero uno, Fernando Orsi, la maglia numero ventuno, Luca Luzzardi, la maglia numero diciannove, Beppe Favalli, sovrassediamo la maglia numero quattro, maglia numero cinque, Di Chiara, la maglia numero sei, Massimo Piscetta, la maglia numero sette, Lorenzo Marronaro, la maglia numero otto, Giuliano Gianichetta, la maglia numero nove, Bruno Giordano, la maglia numero dieci, Stefano Chiore, la maglia numero undici, Bernardo Corradi, in palchina il ministro Giancarlo Odi, poi Sulforo, Miele, Pantano, De Luca e Saltarelli. Grazie a tutti. 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 Sono tranquilli senza un problemino fisico, insomma, già quello è un grande successo, ma soprattutto speriamo che ci sia una bella cornice di pubblico, che la gente si possa divertire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu ricordi un derby del 6 gennaio che fu clamoroso per il risultato e anche per la differenza tra le due squadre. Che derby ti aspetti quest'anno? Ma speriamo intanto che il gennaio porti bene come fu quel 6 gennaio lì. È un derby difficile perché il derby è sempre una partita a sé e come ho detto prima la Roma è una squadra attrezzata per vincere lo scudetto, però la Lazio secondo me è una buonissima squadra e può sicuramente vincere la partita. Sono queste cose che ci sono queste cose che ci sono cose che ci fanno stare bene, ci fanno stare insieme, speriamo che venga anche un po' di gente a divertirsi e così la giornata è perfetta. Tanti vecchi amici, vedo tante conoscenze, abbracci, chi è quello che sta più in forma, che non è cambiato? Oltre a te. No, senza dubbio Bernardo, ma anche perché ha smesso da poco. Poi gli altri, a dire il vero, hanno qualche anno in più però si mantengono tutti bene anche se oggi come sempre dai, quelli più giovani ci sarà da correre un po' di più anche per loro. C'è qualche polemica con il mister per partire da titolari oppure oggi no? No, no, dai, abbiamo fatto tante da giocatori, no, no, oggi assolutamente no. Senti, un'ultima domanda, Lazio in corsa per il terzo posto oppure secondo te è un discorso che non riguarda la squadra di Pioli? Ma diciamo che non dovrebbe riguardare la Lazio di Pioli, secondo me, non tanto perché non ce ne sono le possibilità, ma perché parlandone probabilmente si ottiene l'effetto contrario. Proprio prima di Empoli, dopo le cinque vittorie consecutive si era cominciato a parlare, guarda caso poi si è perso ad Empoli. Io credo che per il terzo posto sarà una corsa allargata un po' a tutti, quindi anche alla Lazio, che però non deve avere l'obbligo di doverci arrivare perché così, giocando anche senza pressione, se magari a gennaio si riesce a fare qualcosina sul mercato, poi alla fine potrebbe anche giocarsi. Sì, siamo venuti con voglia, anche perché insomma, al di là del fatto di fare una cosa utile socialmente, si riesce a stare insieme, a fare una partita, a rivedere, insomma, i giocatori hanno fatto anche la storia del Lazio e la storia del Frosinone, quindi siamo venuti molto volentieri. Passiamo al campo, oggi partirei da ridolare? Eh, il mister Giordano sì, mascherato come punta centrale, insomma, ha detto che si metterà a supporto per fornirmi qualche assist. Finalmente riesco a giocare, insomma, con Bruno in campo a 11 e tanta roba. Speriamo che pure Fiore metta qualche palletta al centro allora. Sì, ma, beh, con lui ci ha giocato anche le partite vere. Con vecchi tempi. Con vecchi tempi, però c'è curiosità, insomma, Bruno è stato, credo, uno dei giottori italiani più forti che, insomma, il calcio italiano abbia conosciuto e quindi c'è... Poi lo vedo giocare a calciotto anche durante la settimana, insomma, belli. La Lazio è in corsa per il terzo posto? La Lazio sta facendo bene, secondo me alcune volte ha sbagliato il passo decisivo, però credo siano anche, non so, forse scosse di assestamento perché è un progetto in divenire, è una squadra che comunque il mister ha cercato di plasmare dall'inizio e incappate in alcuni passi falsi, però nel computo totale credo che fino adesso abbia fatto la propria strada, la propria storia. Un attaccante tra Close e Giorgiovic, quale ti piace di più? Vabbè, io non credo ci possa fare un paragone perché hanno due storie diverse. Close, non più tardi di cinque mesi fa, ha giocato un mondiale da protagonista, ha alzato al cielo il trofeo più importante che c'è e il giocatore aver segnato più con una fase finale dei mondiali, quindi non so, non credo possa essere paragonato a tanti giocatori. Giorgiovic sta facendo molto bene il suo primo campionato e deve continuare perché, insomma, la Serie A è molto difficile e sarà molto difficile quest'anno, sarà molto difficile il prossimo anno e lo conosceranno meglio, però insomma io non credo si possa creare un dualismo fra questi due giocatori.